Ancora allerta rossa domani per le zone alluvionate. Sono 36.000 le persone evacuate in regione. Nelle Ravennate cade un elicottero impegnato a risolvere i guasti alla linea elettrica. Individuato lo stabile che il prossimo anno accoglierà le 12 classi dell'Iceo Einstein costrette a traslocare dalla sede principale a causa dei lavori infrastrutturali. Lo spazzatore non lascia rimine e questa volta finisce in carcere. Per lui si tratta del quinto arresto in sette mesi. Basket RBR sconfitte in casa da Treviglio. Ore sotto nella serie 2-1. Domani di nuovo in campo al Flaminio per tenere vivo il sogno playoff. Buonasera e bentrovati con l'edizione serale di Caro Tg. Resta critica la situazione in Romagna dove il Ravennate si trova a fare i conti con decine di migliaia di persone evacuate. I territori restano fragili e prosegue l'allerta. Intanto la regione prova a quantificare i danni alle infrastrutture viarie e ferroviarie in attesa dell'arrivo domani della Premier Meloni. Vediamo. Resta l'allerta rossa anche domani per le zone colpite dal maltempo anche se non sono previste precipitazioni consistenti. Il territorio però è fragile. Sono 305 le frane in atto, 127 a Forlicesena, 90 a Ravenna, 49 a Bologna, 13 nel Riminese, con Montescudo comune più colpito con sei, le altre invece tutte in alta Valmarecchia. In mattinata un incidente a Bellaricetto di Lugo con un elicottero caduto mentre era impegnato in un intervento per i guasti alla linea elettrica, 4 i feriti. Il bilancio delle vittime resta invece fermo a 14. Il numero degli evacuati sale a 36.000. Ravenna è la realtà più in difficoltà dove è stato evacuato il 16% del territorio comunale e un decimo della popolazione. Complessivamente circa 5.000 persone, 4 nel Riminese, sono state accolte in strutture allestite dai comuni. Oltre 60 le aree ancora allagate, le più recenti con Selice, Lugo e la zona nord di Ravenna, ma sono oltre un centinaio i comuni coinvolti nei danni del maltempo. La regione è impegnata proprio nel censimento degli enti locali che dovranno essere inseriti nel decreto fiscale che emanerà il governo. Domani, anticipando il rientro dal G7 in Giappone, anche la Premier Meloni arriverà in Emilia Romagna per un sopralluogo. Intanto, l'autority ha approvato un provvedimento d'urgenza per la sospensione del pagamento delle bollette di acqua, rifiuti, luce e gas nelle zone colpite. Stop anche ai distacchi per morosità. Resta complicata, anche se in miglioramento, la situazione dei trasporti. 500 le strade chiuse, ma tornano percorribili i ponti nel Cesenate. Alcune frazioni e paesi sono ancora isolati, specie nelle aree collinari e appenniniche. Secondo le prime stime regionali, effettuate oggi a Bologna alla presenza dei ministri Salvini e Piantedosi, ci sono 500 milioni di danni alle infrastrutture viarie dell'Emilia Romagna. Oltre 100 milioni tra Forlì e Cesena, 150 milioni a Ravenna, una decina a Rimini e 100 milioni in capo ad Anas per le strade statali. All'appello però manca ancora la viabilità comunale. Servono ingenti risorse da parte del governo, dice l'assessore Corsini, ma anche norme speciali per velocizzare gli iter di ricostruzione. Oltre 100 milioni invece i danni per le ferrovie, dove la situazione treni resta complessa. La circolazione è sospesa sulla direttrice adriatica tra Farenza e Rimini e i tempi di ripristino sono difficili da quantificare, visti i seri danni subiti. Nei primi giorni della prossima settimana invece dovrebbe tornare operativa la Ravenna Rimini. Uno dei pochi spiragli di luce nel pieno dell'emergenza ma al tempo di questi giorni è stata la generosità che in tanti, soprattutto i giovani, hanno messo in campo per aiutare chi era più in difficoltà. Molte le persone che si sono rimboccate le maniche nel vero senso della parola per dare una mano. È accaduto anche nel Rubicone a Sant'Angelo di Gatteo, dove un centinaio di volontari si è impegnato per mettere in sicurezza la casa per anziani non autosufficienti, fracassi, evacuata per l'esondazione del torrente Rigossa che ha allagato la struttura. Vediamo. Siamo a Sant'Angelo al ricovero per anziani che è stato allagato interamente dal sondamento della Rigossa e tutto il paese qui attorno ha evacuato i propri scantinati per intero. proviamo dei viali completamente pieni di detriti e di materiale che esce dalle cantine. Tutti i vicini di casa qui sono impegnati nell'evacuazione. Qui abbiamo un gruppo nutritissimo di volontari che quest'oggi si sta adoperando da tutte le terre della Romagna, nei dintorni, di tutte le età, dai ragazzi delle medie superiori e i più grandi mamme, papà e tutte le forze sono qui a collaborare. Veramente oggi c'è una fiumana di gente che sta rispondendo alla fiumana di acqua. Marco quanto c'è da fare ancora qua? Ce n'è, ce n'è perché c'è una casa di riposo, un sotterraneo che è immenso, grande quanto la casa. Tutto, diciamo, siamo interrato della casa di accoglienza, è tutto pieno d'acqua, mezzo e mezzo d'acqua e sotto avevamo tutti i depositi e i servizi della struttura. Si è stato un passaparola straordinario e una risposta veramente di cuore di tantissime persone che non mi saremmo aspettata. I giovani sono veramente straordinari, una forza di cuore, veramente. Sono di Fiumicino, qua accanto. Qua accanto. Sono venuto perché dai, non avevo niente da fare, è sempre bello aiutare un po'. Qui c'è un sacco di lavoro da fare ovviamente. Da dove vieni? Dai, il Giammarina. Il Giammarina, come mai sei qua? Per la Romagna, questo e altro. Infatti siamo qui con delle nostre forze. Sono Mauro Pascari. Come avete avuto la notizia di qua? Io ho un avvio che è nella protezione civile. Mi è arrivato un messaggio. Vengo da Gatteo e sono venuta a dare una mano, visto che è anche la mia parrocchia e comunque si dice che se fai del bene ti torni dietro del bene. Quindi il caso mio è salva, quindi ha maggior ragione e sono contenta di venire da una mano agli altri. Ora uno sguardo alla cronaca. Alle prime luci dell'alba la squadra giudiziaria della Polizia Locale di Rimini ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di uno spacciatore albanese di 35 anni irregolare sul territorio, già fermato quattro volte negli ultimi sette mesi. Questa mattina sette agenti in borghese e due unità cinofile hanno circondato l'appartamento dove il pusher risultava vivere in affitto. E' lì che lo hanno arrestato per la quinta volta. E' stato il pubblico ministero a chiedere e ottenere un aggravamento della misura per il 35enne che in occasione degli ultimi due arresti era stato rimesso in libertà dal giudice con il divieto di dimora in Emilia-Romagna, anche se di fatto aveva continuato a vivere a Rimini, dove era solito, secondo la squadra giudiziaria, spacciare nella zona sud, in particolare a Riva Azzurra, vicino al parco Pertini. Nell'appartamento questa mattina sono stati sequestrati 1500 euro in contanti ritenuti provento di spaccio e otto dosi di cocaina. Il proprietario dell'immobile verrà inoltre sanzionato di 500 euro per non aver dichiarato alla questura di Rimini la presenza dello straniero nell'apposito portale alloggiati. C'è una soluzione temporanea per gli studenti delle 12 classi dell'Iceo Einstein di Rimini che il prossimo anno dovranno abbandonare la sede principale, oggetto di lavori infrastrutturali. Dopo le rassicurazioni arrivate qualche settimana fa in Consiglio Comunale è stato annunciato lo stabile che li ospiterà il servizio. Sarà l'ex sede IMPDAP di via Carlo Alberto dalla Chiesa ad ospitare gli studenti delle classi dell'Iceo Einstein di Rimini che il prossimo anno saranno interessati dal cantiere per la messa in sicurezza sismica della scuola. Lo stabile, spiega il consigliere provinciale Giuliano Zamagni, si presta ad essere rimodulato per le esigenze scolastiche e si trova a meno di 500 metri e a pochi minuti a piedi dall'ingresso del liceo. Il silenzio dell'amministrazione, lamentato ieri dai consiglieri comunali Lisi e Brunori, era sinonimo di impegno costante per raggiungere l'obiettivo, spiega Zamagni, dicendo di voler sgombrare il campo da inutili allarmismi. Nello stabile ex IMPDAP, che ospiterà 11 classi, sono già stati effettuati vari sopralluoghi ed è stato raggiunto l'accordo per la locazione con la società pubblica che ne cura la gestione. Valutazione in corso, invece, per la dodicesima classe, per la quale non è ancora certo lo spostamento. In caso si renda necessario, è probabile che si ricavi uno spazio all'interno del polo scolastico della colonnella, dove si trova il liceo, rivela il consigliere. La soluzione scelta dalla provincia, benché sia la più onerosa dal punto di vista economico, permetterà di evitare lezioni pomeridiane e doppi turni, opzione già smentita dal presidente della provincia in consiglio comunale qualche settimana fa, ma soprattutto doterà l'ente di una struttura in posizione strategica che, terminati i lavori all'Einstein, potrebbe tornare utile per altre esigenze delle strutture scolastiche provinciali, conclude Zamagni. Il Consorzio Sociale Romagnolo si è riunita nei giorni scorsi per approvare il consuntivo del 2022, il bilancio sociale e anche confermare il direttivo, un settore, quello delle cooperative sociali, che si conferma in salute. Il Consorzio Sociale Romagnolo, che associa oggi 50 cooperative sociali, ha chiuso il 2022 col fatturato record di 32,6 milioni. Le offerte censite sono state 123, 10 in più del 2021, nello specifico 68 gare bandite da enti pubblici, 9 affidamenti diretti da enti pubblici, 46 contratti con clienti privati, una voce che ha aumentato in un anno il suo peso dal 19 al 37% del totale, particolarmente intenso il rapporto con ERA e le società del gruppo, confermati anche per il triennio 2023-2026 gli organi governativi in carica. L'Assemblea del Consorzio ha rinnovato il Consiglio di amministrazione in continuità con quello che è successo negli ultimi tre anni, anche perché le cooperative sociali si troveranno di fronte e si troveranno di fronte a alcuni anni di complessità. Lo dico perché chi come noi fa inserimento lavorativo è consapevole che in questi ultimi anni l'attenzione da parte della società e di alcune amministrazioni sul valore di inserire persone al lavoro che solitamente non hanno altre opportunità se non lavorare nel nostro mondo è sempre più complesso da far passare. Ci sarà anche l'avvento del nuovo codice dei contratti pubblici e dovremo capire quanto questo impatterà sul nostro mondo. Prosegue la valutazione dell'impatto sociale del CSR e delle cooperative associate in collaborazione con la Facoltà di Economia Aziendale dell'Università di Bologna che si completerà nel 2024. Almeno il 30-40% dei nostri lavoratori sono persone svantaggiate e questo penso che sia per tutto il territorio della Romagna un grande valore che cerchiamo di farci riconoscere. Facciamo questa ricerca, questo studio per far vedere all'esterno l'impatto sociale che ha il nostro operato quindi il lavoro delle cooperative sociali che riteniamo sia un valore importantissimo tutta una serie di carico sociale in qualche modo attraverso la cooperazione sociale viene tolto dalla collettività dai comuni, dai servizi che gestiscono queste persone. Quindi penso che sia un grande risultato anche economico perché chiaramente poi oggi siamo qui proprio per valutare i numeri quindi penso un risultato molto positivo ancora. Ora passiamo allo sport e al basket in gara 3 del primo turno dei play-off con Treviglio Riviera Banca rischia di sprofondare due volte riemerge dal meno 22 per portarsi a poco più di 4 minuti dalla fine sul meno 4 riaprendo così la partita alla fine però vince il gruppo Mascio che si porta avanti 2-1 nella serie e domani alle 18 al Flaminio si gioca gara 4 il servizio. Dopo le prime due partite di Treviglio la serie di play-off tra gruppo Mascio e Riviera Banca è sull'1-1 prima della palla 2 osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell'alluvione in Emilia Romagna. Sono i lunghi a dominare la scena in avvio Lombardi, Marcius e ancora Lombardi portano avanti gli ospiti 3-6 4 punti di Dalmeida per la nuova parità 7-7 Segnano Marcius da sotto Giuri dall'arco e Marini dalla media RBR è doppiata sul 7-14 La triplona di Tassinari illude il Flaminio 10-14 ma Marini, Cerelle e Bruttini fanno chiudere il primo quarto sull'11-20 Correzione di Bruttini in avvio di secondo tempino e Riviera Banca è nuovamente doppiata sull'11-22 poi Sacchetti dall'angolo per il più 15 12-27 Si sveglia Johnson con 4 punti consecutivi 16-27 Ma i canestri di Clark Marcius, Marini e ancora Marcius fanno doppiare ancora nel punteggio i Romagnoli sul 18-36 Non è finita perché Lombardi vuole in contropiede per il più 20 e Marini schiaccia il più 22 18-40 a meno 3 primi a 16 secondi dall'intervallo lungo Rimini regisce con un 8-0 griffato Johnson e Masciadri 26-40 Ancora Johnson e Bedetti che rugopalle subisce fallo antisportivo riavvicinano i Biancorossi 30-42 al ventesimo Al ritorno in campo Riviera Banca torna a meno 10 prima con Anumba 32-42 poi con Tassinari 34-44 Clark apre e chiude un parziale di 10-0 che riporta il suo sul più 20 34-54 Ancora Clark dopo un libero di Johnson imbuca la tripla del nuovo più 22 35-57 Rimini risponde con un 9-0 firmato Johnson, Scarponi e Tassinari 44-57 Bruttini lo interrompe 44-59 Ma due triple consecutive di Landi riportano RBR sotto la doppia cifra di svantaggio 50-59 Al trentesimo il tabellone segna 52-60 gara ancora aperta L'ultimo parziale inizia con un 5-0 per Treviglio che è la griffa di Vitali tripla e assist per Marcius 52-65 Sette punti consecutivi di Landi che sale a 13 e riviera banche a meno 4 65-69 a meno 4 prime 17 secondi Vitali, Clark miglior marcatore dei suoi con 18 punti e Lombardi mettono al sicuro il risultato 68-81 dopo la tripla del numero 7 Siamo già nell'ultimo minuto Johnson dalla lunetta realizza il suo 26esimo e 27esimo punto ed è il top scorer dell'incontro L'ultimo canestro è di Masciadri e fisso il punteggio sulle 72-81 Non può rimproverare niente ai suoi ragazzi il coach di RBR Ferrari sentiamo Treviglio ha vinto con merito noi abbiamo però lottato che era quello che avevo chiesto alla squadra abbiamo lottato non ci siamo disuniti siamo andati più volte sotto anche con un dislivello un gap importante di 20 punti però non abbiamo mollato penso che stiamo rispettando fino in fondo questa serie penso che stiamo provando a fare tutto quello che era nelle nostre corde poi è logico facciamo degli errori ci sono delle cose che bisognerebbe aggiustare però è anche vero che stiamo provando a tenere il passo di una compagine molto forte molto solida e stiamo provando a gittare io penso il cuore oltre all'ostacolo in ogni modo poi logicamente se uno guarda la partita fuori se uno fa delle riflessioni potrebbe dire potrebbero fare meglio questo la difesa sul pick and roll i tagli a fuori i passaggi l'attacco le punizioni le tusce e le volée però la realtà è che poi bisogna essere concreti pragmatici stiamo cercando in tutti i modi di giocare alla pari contro una squadra molto importante una squadra con fisicità e esperienza e penso che possiamo far meglio però non ho sinceramente nulla da rimproverare alla mia squadra questa sera le 20.45 torno all'appuntamento con Tikva gli intrecci della speranza vediamo un'anticipazione della puntata Terra Franca un bene confiscato alla mafia diventa punto di riferimento per le famiglie e per i bambini di Cruillas un quartiere della periferia ovest della città si sta così riappropriando di un'area ideale per la crescita dei bambini se doni salvi una vita non è una frase fatta ma quello che è successo questa mattina al centro trasfusionale del Policlinico Rossi di Borgo Roma questa giovane donna ha donato il suo sangue dal quale sono state estratte le cellule staminali emopoietiche che partiranno per l'estero e con il trappianto di midollo osseo salveranno la vita a un malato o a una malata del tutto anonimi come può la transizione ecologica essere un'opportunità per migliorare le condizioni di vita degli abitanti dei quartieri prioritari ma soprattutto quali narrazioni possono permettere alle popolazioni più esposte e precarie di cogliere l'opportunità della transizione ecologica per migliorare le proprie condizioni di vita in modo sostenibile queste sono alcune delle domande a cui cerca di rispondere Stories of Transitions progetto europeo nell'ambito del programma Erasmus Plus che coinvolge quattro paesi europei e in Italia la città di Reggio Emilia con la collaborazione della fondazione E35 un bel progetto che si chiama Cicciottà parliamo un po' di com'è nata questa bella iniziativa ci è stata proposta da Donatella Bidini questa iniziativa che ha come tema diciamo il promuovere nei bambini fin da piccoli un giusto atteggiamento e una più che altro consapevole nei confronti dell'ambiente quindi il capire cosa fare per non inquinare per non sprecare per poi mettere in pratica questi giusti atteggiamenti e domenica su Icaro TV torna l'appuntamento con Romagna ieri oggi e domani il programma nato da un'idea di Mario Lugli nella puntata si racconta la storia di Viserba da paese agricolo famoso per la sua fonte Sacramora alla località turistica dei giorni nostri Maria Cristina Muccioli ci porta a conoscere le persone che hanno fatto la storia di Viserba dagli anni 60 ad oggi la trasmissione è in programma domani alle 13 e replica ogni venerdì alle 21.45 è tutto io vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it la nostra piattaforma Icaro Play grazie per essere stati con noi a tutti voi l'augurio di una buona serata grazie per la visione